Fine anno super a Salerno, poker da sballo, ripresa da urlo e rimonta significativa, agganciato il Brescia al secondo posto, mancuso valore aggiunto, tripletta d'autore, 12 gol in campionato, come Pettinari che l'8 dicembre 2017 a Cesena, 18esimo turno dello scorso torneo, realizzò appunto il dodicesimo centro stagionale, prima del lunghissimo digiuno, protrattosi per oltre 4 mesi. Addirittura meglio di Ciro Immobile, 9 gol con due rigori dopo 18 giornate del campionato 2011-2012 e di Gianluca Lapadula, a segno 10 volte senza rigori nella stagione 2015-2016. L'ex Teramo si sbloccò la quinta giornata, il 26 settembre 2015, nella trasferta di Vicenza. Entrambi, a suon di gol, 28 Immobile, 30 Lapadula, contribuirono in maniera determinante alla promozione in Serie A, targata Zeman prima o dopoi. Quello attuale per Mancuso, che la Juve ha lasciato in prestito sino al 30 giugno, può essere davvero il campionato della definitiva consacrazione. Segna in tutti i modi, di testa, di piede, destro o sinistro non fa davvero differenza. Crescita senza dubbio esponenziale, da prima punta il meglio, dal resto si è rappresentato così col Foggia. Prima partita dello scorso campionato, un gol bellissimo, ironia della sorte, proprio da centravanti. No, 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 no.